Martedì 28 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 presso la sala consigliare del municipio di Catiepolo a Porto Tolle il consorzio CEV ha illustrato e approfondito le principali novità contenute nel nuovo testo del codice degli appalti. Sul nuovo codice si gioca tantissimo del futuro dell'Italia, si tratta infatti di una riforma pilastro che va ben spiegata fornendo gli strumenti interpretativi per la sua attuazione operativa e dove giocano un ruolo fondamentale, parole chiave come accelerazione, semplificazione ma anche competitività, resilienza ma soprattutto ripresa con slancio e sinergie per il territorio. Il nuovo codice degli appalti è un vero e proprio vademecum, pratico e normativo per l'Italia di un futuro mai stato così vicino e dove è sempre più importante essere goals oriented, essere quindi orientati agli obiettivi comuni per un sistema pubblico sempre più performante e sostenibile e dove il consorzio CEV ha fornito così le linee guida esplicative e anche le tante opportunità a disposizione e da poter cogliere. Vediamo. Il nuovo codice dei contratti pubblici si compone di un primo corpo relativo ai principi generali che costituisce un'obiettiva novità perché questi principi vengono esplicitati e informano l'intera normativa e costituiscono uno strumento per l'interprete di gestione delle norme contenute nell'intero codice codice che come ho detto costituisce uno strumento pratico, un manuale per gli operatori, per i pubblici funzionari che potranno senz'altro trovarsi agevolati nella consultazione di questo corpo normativo. Il consorzio aiuta gli enti anche nel cambio delle normative come in questo caso abbastanza particolare dove stiamo parlando di un codice che doveva entrare in funzione in vigore fra pochi giorni invece è stato rinviato quindi è stato creato tutto un insieme di eventi e di casi studio per imparare e essere pronti adesso il tutto è rinviato. Questo però non ferma il consorzio che cerca proprio attraverso degli incontri come questi dove viene lasciato spazio ai casi concreti, a delle relatrici che non sono docenti ma sono persone che lavorano dieci ore al giorno sul codice degli appalti proprio per cercare di fare chiarezza perché il rischio è che la lezione magari accademica non faccia chiarezza ma porti confusione all'interno del testa del tecnico comunale che ha già tante cose a cui pensare. Quindi il CEV proprio con questi tipi di incontri che proseguiranno anche in altre materie per esempio grande riforma sull'ambito dei concorsi pubblici, anche qua siamo di fronte a un cambio normativo importante lo andremo a spiegare ma il bello è che il CEV non si ferma tra l'uscita di una normativa e l'entrata di un'altra non abbiamo tempo da aspettare e operiamo anche in una fase che non è facile perché credetemi molte volte ci troviamo a dire adesso qua cosa si applica, cosa non si applica per cui forza avanti tutta e noi siamo qua ad aiutare.